Avete certamente sentito la vibrazione di un gatto che fa le fuse. Tutto è vibrazione, la vita stessa è vibrazione e ogni forma è vibrazione. E ogni essere che ti passa accanto è vibrazione, è consapevolezza vibrante. Può non esserne cosciente, ma lo è. E tu? Puoi scegliere di esserne cosciente oppure no?